Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo, andiamoci dentro col video. Oggi sono qui per raccontarvi la storia di un serial che non conoscevo, me l'avete consigliato voi su Google Docs e quindi oggi sono qui per parlarvi di Herbert Baumeister. Herbert Richard Baumeister nasce a Indianapolis, in Indiana, il 7 aprile del 1947. Herb è il maggiore dei quattro figli nati da Herbert E., un anestesista, ed Elizabeth, una casalinga. La prima infanzia di Herb trascorre tranquilla, ma tutto sembra cambiare quando diventa un adolescente. Secondo i suoi amici e la sua famiglia è da allora che il comportamento di Herb diventa irregolare e bizzarro. La maggior parte delle persone attorno ad Herb si fanno questa opinione, specialmente perché inizia a sviluppare un'ossessione malsana per la morte e il decadimento. Herb va in giro, raccoglie animali morti, ad esempio uccelli, e li porta con sé a scuola. Poi, una volta a scuola, lascia la carcassa dell'animale sulla cattedra. Da alcuni rapporti aggiuntivi si evince che il ragazzo è stato sorpreso a urinare sulla scrivania di uno dei suoi insegnanti. Tutto questo accade più o meno nello stesso periodo in cui i voti di Herb peggiorano vertiginosamente. I suoi insegnanti sostengono che è diventato un'enorme distrazione per gli altri studenti della sua classe. Ovviamente, a questo punto, tutti si rendono conto che qualcosa non va. Gli insegnanti, turbati dal comportamento del giovane, ne discutono tra loro e poi contattano i suoi genitori. Dopo che Herbert E. ed Elizabeth scoprono come il figlio si comporta a scuola, anche loro si allarmano parecchio. In realtà, Herb si comporta in modo preoccupante anche a casa. Così, decidono di fare qualcosa che non è comune alle abitudini di quell'epoca. Portano il ragazzo dallo psichiatra per una valutazione. A seguito della valutazione, viene stabilito che Herb soffra sia di schizofrenia che di disturbo di personalità multipla. Oggi il disturbo di personalità multipla è indicato come disturbo dissociativo dell'identità. Tuttavia, nonostante la gravità della situazione di Herb, i genitori non fanno altro per fornirgli l'aiuto di cui ha disperatamente bisogno. Oggi, nel 2022, può sembrare strano che i genitori di Herb non abbiano cercato cure appropriate per lui all'inizio degli anni Sessanta. Tuttavia, considerando l'epoca, in effetti non è così anomalo. Il trattamento standard per la schizofrenia prevede che il paziente sia sottoposto a terapia elettroconvulsiva, cioè all'elettroshock. L'elettroshock, però, non è mai stato concepito come un mezzo per curare e guarire un paziente. Viene utilizzato principalmente nel tentativo di renderlo più docile. Pertanto, in teoria, l'individuo, reso più docile, avrebbe minori probabilità di agire negativamente nei confronti di se stesso o degli altri. Dopotutto, i farmaci che oggi i medici prescrivono per curare questi disturbi non erano così facilmente reperibili all'inizio degli anni Sessanta. Ne si poteva contare sulla terapia per la salute mentale che la società odierna dà per scontata. All'epoca, l'elettroshock sembrava essere l'unica opzione percorribile. Ma alla fine, a dirla tutta, se anche i genitori avessero sottoposto Herb a questo trattamento, lui comunque non sarebbe guarito. Inoltre, non c'era nemmeno alcuna garanzia che l'elettroshock sarebbe riuscito a farlo calmare. Nonostante non riceva un trattamento adeguato per i problemi di salute mentale da cui è affetto, Herb riesce a portare i suoi voti al livello necessario per diplomarsi. Riesce anche a essere accettato all'Università dell'Indiana. Tuttavia, rimane all'università solo per un semestre e poi sceglie di abbandonare gli studi. Herbert E. non è contento della decisione di suo figlio di lasciare il college, quindi lo convince a riprovarci. Herb si iscrive nuovamente all'Università dell'Indiana nel 1967, ma anche la seconda volta. Non vi rimane a lungo. In effetti, frequenta di nuovo le lezioni solo per un semestre, dopodiché abbandona per sempre. Sin da quando Herb è un adolescente, viene marginato. Sa di avere problemi psichiatrici e che non c'è davvero niente che possa fare per risolverli. Sa anche che la maggior parte delle persone intorno a lui non riesce nemmeno a capire cosa stia passando, quali siano i suoi turbamenti e i suoi problemi. Poi, nel 1967, quando ha 24 anni, mentre frequenta l'Università dell'Indiana per la seconda volta, Herb prova qualcosa che non ha mai vissuto fino a quel momento. Quando incontra Giuliana Julie Sater, la sua vita cambia. Lei è una studentessa part-time dell'Università e un'insegnante di scuola superiore. Quando i due si incontrano, Herb è davvero elettrizzato, in quanto sembrano andare subito d'accordo. Herb e Julie pare abbiano obiettivi e valori simili. Sono entrambi conservatori quando si tratta di politica. Sono entrambi membri attivi dei Young Republicans, un gruppo studentesco dell'Università dell'Indiana. Inoltre, hanno entrambi un grande interesse per le auto, in particolare per quelle classiche. Herb e Julie sognano di possedere e gestire la propria attività. Quando Herb si rende conto di quanto hanno in comune e di come riescono a prendersi cura l'uno dell'altro, propone a Julie di sposarlo. Quest'ultima accetta volentieri la sua proposta di matrimonio. Nel novembre del 1971, i due convolano a nozze e iniziano la loro nuova vita insieme. Tenete presente che le afflizioni mentali di Herb non sono scomparse. Nonostante ciò, Julie gli è molto devota e sceglie di stargli accanto anche durante i suoi momenti più bui. I rapporti indicano che sei mesi dopo il matrimonio di Herb e Julie, Herbert E decide di ricoverare suo figlio in un istituto psichiatrico. Non è chiaro il motivo per cui lo faccia, non sono riuscita a individuare una fonte riferita a un incidente specifico che giustifichi questa azione. Tuttavia, quando Herb viene ricoverato all'ospedale psichiatrico, Julie rimane accanto a suo marito e aspetta pazientemente che torni a casa. Un paio di mesi dopo, lui viene dimesso e i due continuano la loro vita. Considerando che Herb non aveva mai finito il college, né aveva frequentato una scuola commerciale, le sue alternative per ottenere un buon lavoro sono limitate. Herbert E vuole aiutare suo figlio e quindi sfrutta la sua reputazione di medico rispettato e membro apprezzato della comunità per raggiungere questo scopo. Herb viene assunto come copiatore dal quotidiano Indianapolis Star. Il lavoro consiste nel riportare storie dattiloscritte da una sezione all'altra del giornale. All'inizio Herb si impegna tantissimo, impiega tutte le sue energie perché è determinato a tenersi quel lavoro. Tuttavia il suo atteggiamento intraprendente non dura lungo, poiché lui risulta davvero antipatico a tutti i suoi colleghi. Fa perdere loro la pazienza, i colleghi si arrabbiano, quindi nell'ambiente lavorativo si respira un'atmosfera alquanto pesante. In seguito i colleghi affermano che Herb era diventato irritante e molto prepotente. Anche i suoi supervisori avevano notato qualcosa, sembrava lui avesse sempre bisogno delle loro lodi. Se non le riceveva diventava lunatico, amareggiato nei loro confronti. Questa situazione prosegue fino a quando Herb si stanca di lavorare per il giornale e si licenzia. Poi va a lavorare per il BMV. Quando inizia a lavorare lì nuovamente si impegna tantissimo, infatti viene promosso nel ruolo di direttore del programma. Tuttavia si ripresentano gli stessi problemi ai nuovi colleghi, Herb non piace esattamente come i colleghi precedenti. In seguito affermeranno che, siccome lui li metteva a disagio, lo evitavano il più possibile. Avevano anche paura che lui avrebbe manifestato una delle sue famigerate e imprevedibili esplosioni su questioni che altri avrebbero considerato insignificanti. Nel 1985 Herb ha un attacco schizofrenico e viene sorpreso a urinare su una lettera, ma non una lettera qualsiasi. Questa lettera è indirizzata a Robert Orr, allora governatore dell'Indiana. Inutile dire che il suo lavoro con BMV si interrompe dopo questo incidente. Herb viene licenziato immediatamente. Successivamente Herb viene arrestato un paio di volte. Una prima volta sta guidando in stato di ebrezza e viene coinvolto in un incidente mortale. Poi nel 1986 ruba l'auto di un amico, anche in questo caso viene arrestato. Nonostante ciò Herb riesce a non andare mai in prigione. La sua prossima impresa è quella di essere un uomo dedito alla famiglia a tempo pieno. Mentre Herb lavorava alla BMV tra il 1979 e il 1984, lui e Julie avevano messo al mondo tre figli. Marie la Maggiore era nata nel 1979, Eric nel 1981 ed Emery nel 1984. Quando Herb perde il lavoro, Julie sa che lui non ne troverà un altro a breve e dunque conclude che è necessario fare qualcosa per sostenere la loro famiglia in crescita. Così la donna decide di tornare a lavorare come insegnante. Herb dunque assume il ruolo di genitore a tempo pieno ed è davvero molto bravo a prendersi cura dei figli. Sebbene Herb stia a casa in quel periodo, non mostra alcun segno della sua personalità instabile. Anzi, dimostra l'esatto contrario, sembra essere premuroso e paziente. Questo è un lato della sua personalità che molte persone non hanno mai avuto modo di vedere. Essere papà sembra essere l'unica occupazione che rende davvero felice Herb. L'uomo però non rimane a casa lungo poiché alla fine un altro lavoro lo trova, nello specifico, in un negozio dell'usato. Tuttavia, presto inizia a sentirsi troppo bravo per i compiti che gli vengono assegnati. Sente che quei compiti sono al di sotto delle sue capacità, ma vuole ugualmente cogliere l'occasione per imparare un nuovo mestiere. Herb si aggrappa sempre a un desiderio, vuole ancora avviare un'attività in proprio, prima o poi. Pertanto si applica parecchio per imparare tutto ciò che può dai suoi colleghi al negozio dell'usato. Non passa molto tempo e finalmente Herb trova l'opportunità per essere ricompensato di tutti i suoi sforzi. Nel 1988, tre anni dopo l'avere iniziato a lavorare nel negozio dell'usato, lui e Julie decidono che è giunto il momento di realizzare il loro sogno. Ricevono un prestito di 4.000 dollari da sua madre Elizabeth e aprono un proprio negozio dell'usato. Savalot Il negozio riscuote un tale successo che riescono ad aprire una seconda sede entro un anno. Con tutto il ricavato che Herb e Julie conseguono grazie alle sedi di Savalot, possono fare donazione a diversi enti di beneficenza locali. Nel 1989 gli affari vanno così bene che la coppia dona circa 50.000 dollari ad alcuni enti di beneficenza per bambini. Herb e Julie stanno vivendo la loro versione del sogno americano. Decidono quindi che è tempo di investire in una casa per celebrare il loro crescente successo. Sognano di costruire una dimora di ampie dimensioni su un appezzamento di terreno discreto dove sarebbero cresciuti i loro figli. Trovano il posto perfetto quando mettono gli occhi su Fox Hollow Farm. Quando i due acquistano la Fox Hollow Farm nel 1991 la casa e la proprietà costano circa un milione di dollari. Nel 2021 la casa e la proprietà verranno valutate a 2,79 milioni di dollari. Poco dopo essersi trasferita Giulia ha descritto la casa e la proprietà come una sorta di utopia. A un posto dove i loro bambini potevano giocare all'aperto e lei non avrebbe dovuto preoccuparsi che venissero investiti da un'auto. In altre parole quel posto per lei era eccellente. C'è da dire che quando Herb e Julie si presentano al pubblico il loro aspetto inganna tutti. Herb è un uomo complicato e spesso tratta Julie come se fosse una semplice impiegata e non sua moglie. Non sembra mai riconoscere che lei è la comproprietaria di Sevalot insieme al partner. Anche se Julie è sicuramente infastidita da come Herb la tratta non dice mai nulla al riguardo. Lei come gli altri fa il possibile per evitare di avere un confronto con lui. Alla fine però il matrimonio va in crisi e per evitare che i bambini ne soffrano Julie decide di portarli via per un po'. Lei e i figli vanno al lago Uiguassi per l'estate a casa di Elizabeth, la madre di Herb. Herb sembra essere d'accordo con la decisione di Julie. In effetti le dice che è felice di stare a casa e che avrebbe curato i negozi in sua assenza. In realtà le cose vanno in modo molto diverso. I dipendenti dei negozi Sevalot affermano che Herb diventa negligente rispetto ai suoi doveri di proprietario. L'uomo entra fisicamente nei negozi di rado. È molto scortese con i dipendenti e in ospitale con i clienti nelle sporadiche occasioni in cui è presente negli esercizi. Di conseguenza molti dei suoi dipendenti decidono di licenziarsi e da quel momento l'attività inizia ad andare in crisi. La vita di Herb a questo punto comincia pian piano a sgretorarsi, ma l'uomo sposta la sua attenzione sulla ristrutturazione della piscina di Fox Hollow Farm. Herb si assicura che il bar della piscina sia sempre ben rifornito. Poi esce per recuperare molti manichini e li posiziona intorno alla piscina. Li abbiglia tutti con bei vestiti, come se volesse riprodurre una cena elegante o qualcosa del genere. Herb inizia a fare anche qualcos'altro mentre Giulia e i bambini restano a casa di sua madre. ossia comincia ad andare di notte nel centro di Indianapolis e frequenta i bar gay locali. La verità è che nessuno sa davvero da quanto tempo Herb frequentasse quei bar. Credo che Herb sapesse di essere omosessuale da tempo. Purtroppo in quel periodo l'omosessualità era considerata un disturbo della salute mentale. Pertanto non credo che lui se la sentisse di fare coming out con la sua famiglia e i suoi amici. La mia opinione si basa principalmente sul fatto che l'Indiana è considerato ancora oggi uno stato molto conservatore. Dopotutto nel bel mezzo dell'American Beable Belt. Penso che Herb abbia sposato Julie perché la loro relazione lo avrebbe aiutato a dimostrare di essere un devoto repubblicano e padre di famiglia. Ciò gli ha indubbiamente dato l'opportunità di nascondere il suo vero sé a tutti coloro che lo circondavano. Infatti Julie in seguito affermerà che nei 25 anni in cui lei ed Herb sono stati sposati due avevano avuto rapporti solo per un totale di sei volte. Quindi una media di una volta ogni quattro anni più o meno. Eppure dal 1979 al 1984 di sicuro lo hanno fatto più spesso visto che hanno messo al mondo tre figli. Arriviamo al 1991, non molto tempo dopo che Herb e la sua famiglia si sono trasferiti alla Fox Hollow Farm, i giovani gay della zona iniziano a svanire. L'ultimo posto in cui qualcuno li ha visti è nell'area del centro di Indianapolis. Gli uomini scomparsi sono bianchi con caratteristiche simili e di età compresa tra i 20 e i 46 anni. Nel 1994 la madre di Allen Way Broussard di 28 anni si reca presso una società di investigatori privati a Indianapolis. Questa azienda è di proprietà di uno sceriffo della contea di Marion in pensione di nome Virgil Vandagriff. Secondo sua madre Allen viene visto per l'ultima volta uscire da un bar gay a Indianapolis all'inizio di giugno del 1994. Infatti quando Allen sparisce sua madre denuncia la scomparsa alle autorità competenti. Sente però che non stanno davvero facendo del loro meglio per scoprire cosa si è successo a suo figlio quindi decide di assumere Vandagriff per trovare Allen. Solo un paio di giorni dopo che la madre di Allen parla con Vandagriff del figlio scomparso la madre di Roger Goodlett di 32 anni lo chiama. Vuole che indaghi anche sulla scomparsa di suo figlio. Quando prende le informazioni dalla madre di Roger Vandagriff si rende conto che i due casi sono simili tra loro. L'unica differenza è che Roger scompare alla fine di luglio del 1994. Ora che ha due casi su cui indagare Vandagriff non perde tempo cerca immediatamente di andare a fondo alla scomparsa di Allen e Roger. Per mettersi nei loro panni inizia persino a bazzicare negli stessi bar gay che i due uomini frequentavano spesso. Intervista gli avventori del bar e chiede alla sua squadra di appendere i manifesti delle persone scomparse nei vari quartieri. Dopo aver intervistato una manciata di persone Vandagriff scopre rapidamente che Allen e Roger non sono gli unici uomini della zona scomparsi recentemente. In effetti il numero totale di uomini scomparsi è 12. Dunque la situazione è più intricata. Poiché Vandagriff è uno sceriffo della contè in pensione ha esperienza e teme subito il peggio. Ossia la comunità gay di Indianapolis nell'Indiana è stata presa di mira da un serial. Con l'impressionante numero di somiglianze presenti tra tutti gli uomini scomparsi sa per certo che le sparizioni non sono affatto casuali. Vandagriff recupera tutte le informazioni che ha raccolto fino a quel momento e cerca di consegnarle alla polizia locale in modo che si possa aprire un caso insomma. Tuttavia le autorità ignorano le sue preoccupazioni o non sono d'accordo con la teoria dell'investigatore privato o semplicemente non vogliono essere disturbate. Infine potrebbe esserci un problema più profondo per spiegare il loro apparente disinteresse. Per quanto sia triste, negli anni 90, quando questo caso ha il luogo, l'Indiana non accetta ancora volentieri la comunità gay. Sebbene Indianapolis come città sia più liberale del resto dello Stato, non ha molta importanza. Le autorità non prendono sul serio i crimini commessi contro i membri della comunità gay. Spesso le forze dell'ordine scelgono di presumere ingiustamente che l'individuo in questione sia scappato in modo da poter vivere il suo stile di vita gay liberamente. Insomma, agli investigatori non importa un fico secco del fatto che possa esserci più di una dozzina di uomini scomparsi. L'intero dipartimento sembra condividere lo stesso sentimento. Dunque, per il momento, l'intera indagine di Vandagriff si ferma bruscamente. Più o meno nello stesso periodo, il figlio di 13 anni di Herb, Eric, fa una macabra scoperta. Sta camminando nel boschetto dietro Fox Hollow Farm quando si imbatte in un teschio umano. Dato che ha solo 13 anni non ha idea che sia un teschio umano, lo raccoglie e lo porta a casa per mostrarlo a sua madre. Quando Julie vedi cosa ha in mano suo figlio, va letteralmente fuori di testa. E, onestamente, se fossi stata nei suoi panni, probabilmente avrei fatto la stessa cosa. La donna chiede a suo figlio di mostrarle esattamente dove si trovava quando ha trovato il teschio. Julie segue Eric sul posto e dà un'occhiata nelle vicinanze con attenzione. Nel giro di pochi minuti, madre e figlio trovano un mucchio di ossa che, se ricompattate, avrebbero formato uno scheletro umano completo. Quella si rivela una delle rare occasioni in cui Julie affronta Herb riguardo al problema. L'uomo le racconta una storia incredibile su come le ossa fossero del vecchio scheletro anatomico del suo defunto padre che lui aveva nel suo ufficio. Considerando che Herbert E. era un anestesista, ho pensato che questa spiegazione dovrebbe risultare ridicola per Julie. Invece, sembra che lei abbia preso Herb in parola. Anche se magari non gli crede, sceglie di non fargli altre domande. Herb è in grado di spiegare da dove proviene lo scheletro. Tuttavia, non si prende mai la briga di dire perché fosse nascosto nel loro cortile. Vannegrave nel frattempo inizia a perdere ogni speranza di fare progressi con le indagini. Poi, all'improvviso, un uomo lo contatta dicendogli che gli avrebbe fornito tutte le informazioni necessarie. La sua identità rimane anonima, ma ho letto in un articolo che veniva chiamato Tony Harris. Pertanto, userò quel nome anche qui. Quindi, Tony si fa avanti per raccontare a Vannegrave la sua storia. A quanto pare, è amico di uno degli uomini scomparsi, Roger Goodlet. Una notte, mentre Tony è in uno dei bar gay locali, incontra un uomo che si presenta come Brian Smart. Tony trascorre la maggior parte della serata con lui bevendo e chiacchierando. Successivamente, si rincontrano in un bar o in un club. Verso la fine della serata, Brian chiede a Tony se sia interessato a recarsi a casa sua. Tony ha consente di andare con lui. Quando Brian e Tony arrivano all'auto, Tony nota che ha la targa dell'Ohio. Dopo che Brian attraversa la città, inizia a dirigersi a nord. Fuori a buio, Tony è ubriaco e non ha trascorso tanto tempo a nord di Indianapolis. Pertanto, ha difficoltà a riconoscere la strada che stanno percorrendo. Brian guida per circa 30 minuti, poi si fermano a casa sua. Una grande tenuta in stile Tudor è retta su un vasto appezzamento di terreno. I due uomini scendono dall'auto e Brian porta Tony direttamente alla pool house, quindi in piscina. Una volta entrato in piscina, Tony inizia a sentirsi a disagio in quanto vede dei manichini ben vestiti esposti in tutta l'area. Brian offre da bere al giovane, ma Tony rifiuta gentilmente. Poi, i due uomini si siedono e parlano ancora un po'. Brian gli chiede se per caso avesse mai provato l'asfissia durante un rapporto intimo. Tony è sconcertato dalla domanda, ma nota anche che Brian sta diventando iperattivo. Quasi come se avesse fatto uso della polverina bianca. Tony decide di non rischiare di irritare l'uomo, quindi acconsente a fare un tentativo. Vanno in piscina e Brian fa usare a Tony il tubo della piscina per simulare un soffocamento mentre si tocca le parti intime per tutto il tempo. Una volta che Brian riesce a raggiungere il massimo piacere, fa cambiare posizione a Tony. Gli avvolge il tubo intorno al collo fino a quando il giovane sente che la presa sta diventando sempre più stretta. Poi si rende conto che Brian non ha intenzione di allentare la presa. L'uomo al contrario ha tutte le intenzioni di ucciderlo. Tony a questo punto decide che la cosa migliore da fare è fingere di perdere i sensi. Quando il suo corpo diventa inerme, Brian lascia il tubo. Poi di colpo gli occhi di Tony si spalancano e Brian si sorprende perché era convinto di essere riuscito a uccidere l'uomo. È così scioccato che alla fine decide di portare Tony fuori di lì. I due tornano all'auto di Brian e lui riporta Tony in città. Prima che Tony scenda dall'auto, Brian sembra comportarsi come se ciò che ha appena fatto non sia niente di straordinario. Suggerisce che si potrebbero incontrare di nuovo la settimana successiva. Tuttavia, il giorno dell'incontro Brian non si presenta. Appena Tony finisce di raccontare tutto a Van der Graef, quest'ultimo è sicuro che Brian sia l'uomo che sta cercando. Per un anno lui e Tony fanno tutto il possibile per trovare questo Brian, ma senza successo. Poi, nell'agosto del 1995, la fortuna finalmente gira dalla loro parte. Tony si imbatte inaspettatamente in Brian in un altro locale gay di Indianapolis. Non appena si rende conto che l'uomo è lì, esce per cercare l'auto di Brian. Vuole annotare il numero di targa per darlo a Van der Graef. L'uomo a questo punto scopre che il proprietario del veicolo si chiama Herb Baumeister, non Brian Smart. Van der Graef raccoglie tutte le informazioni, incluso ciò che in precedenza aveva cercato di consegnare alle autorità. Porta tutto al dipartimento di polizia e nel novembre del 1995 gli investigatori finalmente esaminano la questione. È a quel punto che si dirigono alla Fox Hollow Farm per chiedere al proprietario della casa se possono dare un'occhiata in giro. Non possono procurarsi un mandato di perquisizione perché non hanno ancora prove sufficienti. La prima persona con cui parlano è Herb. Quando chiedono di perquisire la proprietà che circonda la casa, lui è rimovibile nel suo rifiuto. Gli agenti allora vanno in uno dei negozi di Savalot per parlare con Julie, nella speranza di ottenere il suo permesso. Anche lei però rifiuta di farli entrare nella proprietà. Più tardi, quella stessa sera, dopo che Julie torna a casa dal lavoro, chiede a suo marito cosa stia succedendo. Perché la polizia ha chiesto di perquisire la proprietà? Herb le assicura che non c'è nulla di cui preoccuparsi perché non ha nulla da nascondere. Non sa di cosa stiano cercando di accusarlo, sa solo che lui è innocente. Ancora una volta Julie accetta la sua risposta e lascia cadere l'argomento. La detective Mary Wilson, specializzata in case di persone scomparse e amica intima di Van de Graef, viene ben presto coinvolta. Lavora lungo con Tony per localizzare la tenuta dove l'uomo l'aveva portato quella notte. Ora, chi ha il nome di un sospettato e conosce l'ubdicazione della proprietà, ha due opzioni. Ottenere il consenso dei proprietari per condurre una perquisizione, oppure ottenere un mandato di perquisizione ufficiale. La detective Wilson raccoglie tutte le informazioni che lei e Van de Graef si sono appuntati fino a quel momento e le porta nell'ufficio del procuratore distrettuale. Dopo aver esaminato il suo fascicolo, i funzionari della contea di Hamilton si rifiutano di emettere il mandato per perquisire Fox Hollow Farm. Lei informano che le sue prove sono nella migliore delle ipotesi fragili e che dovrebbe fornire loro ulteriori informazioni per giustificare la sua richiesta. Con nient'altro da fare, la detective Wilson non ha altra scelta che lasciar perdere, almeno per il momento. Poi, nel giugno del 1996, qualcosa cambia. Un giorno Julie entra nell'ufficio della detective Wilson. Poi inizia a sfogarsi parlando di quanto sia preoccupata per suo marito. Herb sta per avere un esaurimento nervoso, ammesso che non ne avesse già avuto uno. Julie parla della loro attività sull'orlo del fallimento e di come sia in procinto di chiedere il divorzio. Julie, inoltre, non ha mai dimenticato lo scheletro che lei ed Eric avevano trovato due anni prima nel bosco dietro la loro casa. Ne parla anche alla detective Wilson. Dopo le dichiarazioni di Julie, le autorità ottengono il pieno consenso per perquisire la proprietà e la casa. Così la detective Wilson porta tre agenti della contea di Hamilton alla Fox Hollow Farm. I quattro procedono alla perquisizione che desideravano fare da tempo. Poco dopo l'inizio della perquisizione, si rendono conto che qualcosa proprio non va. Sanno che c'è qualcosa di strano nella ghiaia posta lungo il bordo del prato, attorno al cortile della tenuta. Però non riescono a capire di cosa si tratti. Quindi si avvicinano, danno un'occhiata e rimangono inorriditi nello scoprire che quella che pensavano fosse ghiaia in realtà è un ammasso di frammenti ossei umani frantumati e carbonizzati. Nei giorni successivi una squadra di agenti delle forze dell'ordine inizia a scavare l'intera proprietà. A lavoro finito recuperano oltre 5.000 frammenti ossei e denti dalla ghiaia. Il laboratorio stabilisce che quei frammenti appartengono ad almeno 11 uomini diversi. Tuttavia sono in grado di identificare soltanto 8 delle vittime. Coloro che sono stati identificati sono Con il rinvenimento dei frammenti ossei la detective Wilson può emettere un mandato d'arresto per Herb Baumeister. L'uomo scopre che stanno già progettando di catturarlo quindi decide di rimanere a casa di sua madre. Da lì attraversa il confine con il Canada. Il 3 luglio 1996 alcune persone stanno facendo un'escursione nel Pinary Provincial Park in Ontario quando si imbattono nell'auto di Herb. Al posto di guida trovano il cadavere dell'uomo. Riporta una sola ferita d'arma da fuoco sulla fronte e una revolver Magnum è posata accanto a lui. Quando la Royal Canadian Mounted Police arriva sul posto perquisisce il veicolo scoprendo che Herb aveva scritto un biglietto d'addio. La lettera spiega che si era suicidato a causa del fallimento della sua attività e della richiesta di divorzio di sua moglie. Non menziona gli uomini scomparsi o il motivo per cui i loro resti sono stati trovati proprio nel suo cortile. Quando Herb Baumeister va in Canada e si suicida, tutte le speranze che le famiglie delle vittime hanno di trovare giustizia sono perdute. Certo, se fosse stato arrestato, accusato e ritenuto colpevole, nessuna pena detentiva avrebbe mai riportato indietro alle persone amate. Gli investigatori dell'Indiana continuano a lavorare sul caso e scavano ancora di più, a fondo nel passato di Herb. È a questo punto che scoprono ulteriori informazioni sulla sua vita segreta. Le loro scoperte sono allarmanti. Mentre l'indagine continua dopo la sua morte, Herb diventa anche il principale sospettato di una serie di omicidi avvenuti lungo l'Interstatale 70, l'autostrada principale che collega Indianapolis e Columbus, Ohio, un percorso spesso attraversato da Herb. Con l'aiuto di Giuliana, gli investigatori dell'Ohio mettono insieme le prove che collegano Herb agli omicidi dell'Interstatale 70 in Indiana e in Ohio, tra Indianapolis e Columbus. Giuliana rifornisce le ricevute che dimostravano che Herb aveva viaggiato sulla I-70 durante il periodo in cui i corpi vengono trovati lungo l'Interstatale. I corpi smettono di apparire lungo l'autostrada più o meno quando Herb si trasferisce a Fox Hollow Farms, dove c'è un sacco di terra per nasconderli. I corpi di nuove uomini sono stati trovati lungo l'autostrada tra l'inizio e la metà degli anni 80, la maggior parte dei quali legati all'ambiente gay di Indianapolis. Oggi Fox Hollow Farm è conosciuto come il luogo di moltiplici omicidi e come una discarica per resti umani. È un'oscura attrazione turistica per le persone interessate al vero crimine e ai fantasmi. Molti affermano di aver vissuto esperienze paranormali lì. Anche se non ci sarà mai una confessione diretta di Herb, le autorità ritengono che fosse lui il criminale che stavano cercando. Tony Harris alla fine era stato fortunato a sfuggire alle vere intenzioni dell'uomo quella notte. Come detto, la vita dell'uomo fu per la maggior parte una vita tranquilla, distante dalle travagliate infanze tipiche delle biografie dei più efferati criminali. Proprio questa apparente tranquillità ha permesso ad Herb di riuscire gradualmente a elaborare i propri piani lontano da ogni tipo di sospetto. La premeditazione, l'intelligenza dell'uomo, il suo crescente comportamento asociale e la sua totale mancanza di rimorso, anche in punto di morte, danno l'impressione di una personalità tendente alla psicopatia. Comunque, alcuni suoi tratti comportamentali sono riconducibili a sindromi maniaco-depressive, sia per le inumane uccisioni e sepulture, sia a causa dei continui e repentini cambi di umore. Molto probabilmente la psicopatia di Herb, come nella maggior parte dei casi, sarebbe stata intrattabile e inguaribile, poiché proprio a causa della violenza predatoria rivolta verso estranei, la ricerca di soddisfazione del proprio egoismo sarebbe diventata sempre più grande. Nonostante il passare degli anni e il prezzo molto basso, la tenuta di Herb non fu acquistata mai da nessuno, complice anche il peso del passato che gravava sulle sue fondamenta. Furono infine Rob e Vicky Graves che, dopo aver demolito una buona parte per ristrutturarla, vi si trasferirono. La vita della coppia procedeva normalmente e i due erano soddisfatti del lavoro svolto all'interno della villa, fino a quando Vicky sperimentò qualcosa di inspiegabile. Durante la normale routine di polizia all'interno della casa, il filo dell'aspirapolvere che la donna usava venne ripetutamente staccato da qualcuno, seppure oltre a lei nell'abitazione non vi fosse nessuno. Turbata da questo episodio, la donna riuscì comunque a scrollarsi di dosso questa costante sensazione di angoscia. Poco tempo dopo, suo marito Rob, un impiegato in una concessionaria di automobili, offrì un appartamento nella sua tenuta al collega Joe La Blanc, al fine di evitare all'uomo gli estenuanti viaggi affrontati ogni mattina e i conseguenti ritardi per recarsi al lavoro. Nonostante Joe fosse a conoscenza della terribile reputazione della casa, accettò. Ma le sue esperienze paranormali non tardarono a manifestarsi. L'uomo aveva enormi difficoltà nell'addormentarsi a causa di incubi ricorrenti. Quelle poche volte in cui riusciva era costretto a svegliarsi di soprassalto in preda al panico, urlando e sbattendo contro le porte di vetro della stanza che gli causarono numerose ferite. Da allora le cose inspiegabili iniziarono ad aumentare. Gli strani avvistamenti nel bosco adiacente la tenuta da parte di Vicky e Joe e la dichiarazione di Rob che descrisse minuziosamente le anomalie della villa, come le porte che sbattevano frantumandosi da sole e le ombre che attraversavano le stanze, rendevano sempre più evidente che qualcosa all'interno della Fox Hollow non andava. Oltre ai tre, qualcun altro era presente. Le continue turbe di Joe portarono l'uomo a credere che gli strani avvenimenti dipendessero dal suo maledetto passato. Un giorno ne trovò conferma quando, durante una passeggiata, il suo cane disotterrò da terra un femore umano, come confermato dalle analisi scientifiche. Herb era infatti solito strangolare le sue vittime. Il ritrovamento delle ossa avvenne proprio nel punto in cui un misterioso uomo dalla maglia rossa era solito apparire durante la notte come testimoniato dagli inquilini della tenuta. Ma la maggiore conferma Joe la ebbe una sera. Mentre svolgeva il suo consueto lavoro al computer, sentì un rumore metallico provenire oltre la sua stanza. Dopo essersi recato in cucina notò sul tavolo un coltello di acciaio, il che fu molto strano considerando che l'uomo sosteneva di aver rimesso, come sempre, tutto al suo posto. Joe quindi si chiese se effettivamente qualcuno fosse mai stato accoltellato in quella cucina e dopo aver staccato dalla corrente tutto ciò che avrebbe potuto provocare rumore in casa, prese il suo cellulare e decise di registrare, di cercare di captare qualcosa. Dopo aver rivolto più volte delle domande durante il riascolto della registrazione, riuscì a sentire una flebile voce pronunciare la parola The Married One, la persona sposata. Ciò fece girare il sangue a Joe, poiché tutte le vittime accertate di Herb non erano sposate, quindi soltanto Herb avrebbe potuto dare quella risposta. La Fox Hollow Farm venne visitata più volte da numerose squadre investigative del paranormale, alcune partecipanti a famosi programmi tv americani come i Ghost Adventures nella nona puntata della nona stagione. La villa venne studiata da demonologi e parapsicologi e tutti dichiararono di aver percepito che, nella casa, non erano affatto soli. In conclusione, la volontà di affrontare un argomento di difficile riscontro empirico, in confronto alle tematiche precedentemente analizzate, trova fondamento, oltre che nella passione riguardo a tali tipologie di argomento, anche in quelle che possiamo definire prove riportate più volte a seguito dei diversi sopralluoghi effettuati nella tenuta di Herb. Tali prove discostano il citato caso da potenziali e pericolose riduzioni semplicistiche e fantasiose. Tuttavia, sia le molteplici registrazioni EVP, rivendibili anche sul web, che le dichiarazioni di chi ha avuto a che fare con la villa dell'assassino pongono degli interrogativi sull'intera vicenda. Certo è che la storia di Herb e della sua tenuta hanno prodotto una serie di suggestioni, ma risulta difficile pensare, anche per i più scettici, che ognuna delle persone entrate in contatto con l'abitazione dell'uomo possa essere stata vittima di forme di condizionamento mentale derivanti dalla fama dell'immobile. Sarebbe altrettanto impensabile che il materiale audio e video repertato durante le ispezioni sia il risultato di continui processi di pareidolia e o apofonia, che è la tendenza a interpretare dei suoni o delle immagini casuali come qualcosa di noto, seppur nella maggioranza dei casi certamente la percezione umana entra in azione con i suoi artefatti. Si tendono così a riconoscere come elementi familiari anche le situazioni più casuali. Resta la difficoltà di addentrarsi nell'intero universo della parapsicologia, seppur occorra comunque tener conto degli studi scientifici effettuati da coloro che per primi si avvicinarono a questo ambito. D'altra parte ci si potrebbe approcciare invece a quelle che sono le influenze della mente umana riguardo a particolari condizioni e situazioni, come la credenza o meno che taluni serial abbiano lasciato un'impronta talmente indelebile da non poter essere cancellata neppure dopo la loro morte. Infatti il segno vivido dell'assassino di Indianapolis e delle sue vittime, molte delle quali mai ritrovate, rimane ancora oggi presente. Detto questo ragazzi, io ho finito di parlare in questo video, fatemi sapere cosa ne pensavate di questo caso. Lo conoscevate? Io spero ovviamente che questo video possa essere stato di vostro gradimento. Noi come al solito ci becchiamo nei commenti, sono curiosissima di sapere quale sia la vostra opinione, specialmente sull'ultima parte e sulla casa di Herb che dovrebbe essere infestata. Che cosa ne pensate? Come al solito ci becchiamo nei commenti. Io nel frattempo vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Basta che non facciate nulla di criminale.